Con questo video, signori, un ultimo saluto a Peppino Gagliardi, mito della musica soprattutto napoletana. Protagonista Sanremo con un disco per l'estate, ma comunque, a parte tutto questo, era conosciuto in tutto il mondo. L'esordio discografico, nel 1962, non fu di quelli epocali, di, a voce le mamma si ricordano in pochi. Lui ascoltava Ray Charles e Joe Tex, ma anche i grandi cantautori francesi, aveva dentro la melodia partenopea classica e nel 63 sfornò Ti amo e ti amerò, ritrovandosi al centro di tutto. Camminavo per via Toledo e da tutti i negozi si sentiva la mia canzone. Ma non capivo quello che mi stava succedendo. Arrivarono altri successi dopo quel Ti amo e ti amerò, it anche nei paesi arabi, il furono che vuole questa musica stasera, 1968, era nella colonna sonora di Il profumo di donna, settembre, 1970, seconda A, un disco per l'estate. Passò dai Festival di Napoli, nel 1963 con Maie, nel 1964 con Unisciuno o P.P.O. Al Capì, scritta con Gaetano Amendola, il suo paroliere di riferimento, e Imparame a Vule il Bene. Nel 1966 con Scriveme di Murolo e Sole Malato di Pazzaglia e Modugno, nel 1969 con Lo Scugnizzo, terzo posto, Aquelli di Sanremo, e nel 1965 con Ti credo in abbinamento con Timi Juro, nel 1966 con Se tu non fossi qui di Carlo Alberto Rossi, doppiata da Pat Boone e poi ripresa da Mina, nel 68 con Che vale per me, ancora di Cia Rossi, con Earta Kit, nel 1972 secondo con Come le Viole, rilanciata nel 2006 da Giuliano Palma, tra i suoi fan eccellenti, con Benny Anderson degli Abba e Dalvaro Soler. Lo dissero il cantore dell'amore nevrotico perché era difficile definire le sue composizioni, il suo canto insieme melodico e innovativo, nasale, dalle sonorità pastose, frutto di una voglia di nuovo che non rompeva con la tradizione.